benvenute e benvenuti a pillole di clima una serie di interviste con esperti ed esperte di temi legati al cambiamento climatico in cui verranno poste alcune delle domande che sono emerse dall'assemblea cittadina per il clima di bologna oggi siamo qui con il professor marletto che ringraziamo per la disponibilità laureato in fisica e in scienze politiche e membro del gruppo scientifico energia per l'italia fondato da vincenzo balsani a 9 da circa 300 tra pubblicazioni scientifiche divulgative interventi a convegni e tre ruoli ricoperti ricordiamo che è stato responsabile delle attività di ricerca e sviluppo dell'osservatorio clima e presidente di aiam insieme a lui approfondiamo oggi il tema della mitigazione e delle energie rinnovabili affrontando una serie di domande che sono immerse dall'assemblea cittadina la prima domanda appunto emersa dalla discussione dei membri dell'assemblea riguardo il tema delle risorse finanziarie e chiede cosa si potrebbe fare affinché l'implementazione e l'utilizzo di energie rinnovabili e la riqualificazione energetica degli edifici siano rese possibili anche le persone meno abbienti ma personalmente ritengo che una rimodulazione adeguata del sistema del bonus possa sicuramente fornire un enorme supporto alle persone che hanno delle difficoltà economiche e ad esempio si potrebbe mettere un nuovo 110 per cento limitato sostanzialmente solo a chi non ha i soldi per pagarsi l'impianto poi naturalmente potrebbe anche essere un bonus inferiore potrebbe essere un bonus che consiste in un prestito a lunghissima scadenza per esempio recuperabile tramite le bollette cioè in sostanza chi non è in grado di investire quei 10.000 euro supponiamo che faccia una cifra qualsiasi quei 10.000 euro ce li mette lo Stato e poi in 25 anni te li chiede indietro naturalmente tu in questi 25 anni ricevi in cambio il fatto che sostanzialmente la corrente elettrica quasi non la paghi quindi in questo modo si potrebbe arrivare a coprire per esempio 5 milioni di persone poco abbiglienti o più povere nel nostro paese circa un 10 per cento della popolazione attiva ma è solo un'idea naturalmente ci vorrebbe un buon economista il quale studia una misura di questo genere in maniera tale che sia sostenibile dal punto di vista economico sia per lo Stato che per le persone con i voti però sostanzialmente si può fare ecco grazie grazie mille e passiamo ora la seconda domanda relativa invece al fotovoltaico e l'assemblea le vuole chiedere come funziona il fotovoltaico il ciclo di vita quali sono i costi benefici gli incentivi allora partiamo dalla cosa più semplice attualmente ai privati lo so per esperienza personale il fotovoltaico viene sostenuto con un bonus del 50 per cento alcune aziende installatrici ti fanno direttamente questo sconto del 50 per cento in fattura quindi tu di fatto l'impianto se costa 10 lo paghi 5 altrimenti per esempio io ho scelto questa opzione in famiglia abbiamo scelto questa in dieci anni ti restituiscono la metà come diciamo sconto sulle tasse che devi versare ogni anno quindi detrazione fiscale magari si potrebbe anche fare una riforma che dice che te li restituisce in cinque anni che dieci anni sono un po lunghi però comunque questa situazione è tale per cui in sostanza l'impianto viene finanziato al 50 per cento ora ai costi attuali della dell'energia elettrica e degli impianti questi soldi si recuperano in circa 4 5 anni dopodiché e siccome l'impianto dura sostanzialmente almeno 20 anni se non 25 tutti gli anni successivi sostanzialmente la corrente prodotta è gratuita per quanto riguarda invece la l'incentivazione alle aziende private e lì c'è una serie di agevolazioni molto complicata io suggerisco in questo caso di rivolgersi a degli esperti per esempio c'è in italia l'associazione italia solare la quale ha un sito web dove ci sono moltissime informazioni ma comunque seguendo per esempio i loro eventi informativi che sono gratuiti si impara un sacco di cose per quanto riguarda le aziende gli artigiani e così via comunque ci sono molti sistemi che consentono addirittura di arrivare ad avere l'impianto senza dover investire del denaro per quanto riguarda le emissioni naturalmente per costruire un impianto le aziende che costruiscono impianti hanno delle emissioni e le analisi più recenti che ho consultato dicono che in uno massimo due anni di lavoro diciamo di produzione solare l'impianto abbatte le emissioni che sono state necessarie per costruirlo quindi nei 20 25 anni successivi di attività sostanzialmente non emette nulla e questo è l'enorme vantaggio del passaggio fotovoltaico che consente di produrre energia dal sole senza dover ricorrere a delle fonti fossili e consente sostanzialmente di abbattere drasticamente le emissioni di co2 legate alla produzione di energia elettrica da ultimo a un certo punto l'impianto avrà bisogno di essere smantellato e di per sé l'impianto non contiene cose particolarmente difficili da riciclare perché contiene materiali abbastanza comuni come alluminio vetro plastica rame e silicio quindi il riciclaggio dei materiali è possibile certamente l'italia deve cominciare a organizzarsi per gestire al meglio questo questi materiali cioè questi materiali non dovrebbero andare in discarica dovrebbero essere riutilizzati e io mi aspetto sulla base delle installazioni che sono state fatte negli ultimi anni che comincerà ad apparire un picco di pannelli da smaltire tra una decina d'anni quindi abbiamo paese a una decina d'anni per organizzare un ciclo diciamo circolare per quanto riguarda il recupero dei materiali provenienti da questi impianti che comunque aumenteranno moltissimo per normative europee che prevedono l'incremento della produzione fotovoltaica in tutta Europa e quindi anche in Italia ottimo grazie per le precisazioni e le informazioni e proseguiamo adesso con la terza domanda emersa dagli incontri dell'assemblea sul tema delle compensazioni e le chiede quanti alberi sarebbero necessari per compensare le emissioni cittadine moltissimi la risposta è moltissimi ho fatto qualche conto diciamo della serva in sostanza solo per compensare le emissioni di anidride carbonica della città di Bologna non parlo della provincia ma parlo solo della città servirebbe un bosco grande come un terzo dell'Emilia Romagna qual è il problema il problema è che gli alberi sono fantastici sono utilissimi vanno messi nella città noi ci servono gli alberi per proteggerci dal sole per stare bene all'ombra svolgono numerosissime funzioni diciamo ecologiche ma l'assorbimento di anidride carbonica che fanno è molto inferiore alle nostre emissioni per esempio in Italia noi gli italiani questo forse non se ne rendono conto ma circa un terzo del nostro territorio nazionale è coperto da boschi e ogni anno vengono calcolati ufficialmente gli assorbimenti di questi boschi quindi un bosco grande come un terzo dell'Italia assorbe emissioni circa il 7 per cento di quelle nazionali quindi se anche l'intero paese se anche l'intera Italia diventasse un unico gigantesco bosco come ai tempi degli antichi romani così si racconta le emissioni che verrebbero assorbite sono al massimo il 25 per cento circa del del totale quindi noi dovremmo noleggiare dei boschi chissà dove per compensare le nostre emissioni insomma sostanzialmente non si può puntare alla riforestazione come misura per continuare ad andare avanti come stiamo andando avanti adesso il problema grosso è abbattere le nostre emissioni e questo può essere fatto soltanto ricorrendo alla elettrificazione generale della nostra società e alla sostituzione della corrente elettrica fossile con corrente elettrica tutta rinnovabile in questo modo le emissioni si abbattono drasticamente ad esempio avendo noi come famiglia acquistato una piccola auto elettrica tre anni fa abbiamo in questi tre anni eliminato dal nostro budget di carbonio circa 10 tonnellate di co2 ci vorrebbe un bosco immenso a parte che mia moglie ha qualche bosco ce l'ha però insomma non si non si risolve il problema creando dei boschi i boschi in città sono fondamentali per fare altre cose cioè per combattere il grande la grande calura per creare delle zone nelle quali si sta meglio ci si può rifugiare quando fa molto caldo sono anche in grado di filtrare gli inquinanti perché sono in grado di assorbire più chioma c'è più assorbono le polvere diciamo così fanno un po da filtro e poi costituiscono diciamo un rifugio per la fauna micro gli uccelli e così via quindi hanno delle funzioni ecologiche ma non illudiamoci di riuscire ad assorbire le nostre emissioni piantando delle foreste perché dovrebbero essere assolutamente spropositate ok perfetto grazie e abbiamo toccato appunto il tema anche dell'abbandono e dei combustibili fossili e in questo proposito l'assemblea le vuole chiedere quale mix di energie rinnovabili potrebbe avere la città di bologna dunque io sono dell'idea che bologna dovrebbe puntare soprattutto sul sole perché il sole in realtà a salvo alcune giornate nebbiose d'inverno il sole abbonda a bologna ho fatto due conti anche qui diciamo molto arronzati la superficie complessiva del comune di bologna di 140 chilometri quadrati se anche solo un centesimo di questa superficie cioè un chilometro virgola quattro corrispondente a circa 140 ettari venissero effettivamente coperti di fotovoltaico avremo a disposizione 140 megawatt di picco come minimo e potrebbero anche diventare di più semplicemente sfruttando le superfici già esistenti per esempio i tetti dei degli edifici periferici che sono numerosissimi i tetti delle piccole e medie aziende le superfici adibite a posteggio dei supermercati oppure delle aziende oppure una fissazione che ho per esempio sono i grandi posteggi degli autobus tipper che sono veramente immensi quello per esempio di via ferrarese via salicento insomma sono ettari ettari coperti completamente da asfalto e che potrebbero essere trasformati in una enorme centrale fotovoltaico per quanto riguarda il vento invece probabilmente si potrebbe recuperare un po di eolico microeolico sugli edifici però bisogna fare delle sperimentazioni perché abbiamo edifici anche abbastanza alti di vari piani si potrebbero fare degli esperimenti con per esempio le case acer cioè le case popolari insomma e abbiamo anche in collina sopra la città la possibilità di studiare qualche impianto fotovoltaico tra l'altro non lontano da bologna a monterenzio in una località che si chiama casoni di romagna ma non è in romagna è a monterenzio c'è il più grande impianto fotovoltaico eolico della della nostra regione è una vallata nella quale il vento non manca e quindi sono stati installati eh una decina di aerogeneratori anche belli grandi però non sono eh di era sono della dell'azienda elettrica di Verona che è venuta a chiedere permesso per installare liquidi a noi magari potrebbe anche essere il momento che pure le nostre aziende elettriche regionali eh di cui non faccio i nomi insomma che però tutti conoscono potrebbero cominciare a sperimentare in questo senso quindi diciamo grosso modo direi 90 per cento solare incluso anche il solare per l'acqua calda cioè il solare termico e poi bisognerebbe tentare di costruire anche una certa produzione di energia elettrica eh rinnovabile dal vento. Recentemente e chiudo un professore universitario della facoltà di ingegneria mi ha contattato perché lui ritiene che si possa sfruttare anche il calore sotterraneo cioè con quello contenuto sia nel terreno che nell'acqua di falda questo calore potrebbe essere utilizzato eh per eh costruire diciamo dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento di tipo geotermico. Eh la la città potrebbe avere anche dei potenziali in questo senso. Quindi le le l'energia rinnovabile a disposizione eh non manca si tratta solo di metterla a frutto. Perfetto grazie per per l'approfondimento. E concludiamo in questo breve video con un'ultima eh domanda. Eh l'assemblea cittadina eh le chiede se eh nucleare può essere considerato una fonte energetica rinnovabile alternativa ai combustibili fossili? Eh la mia risposta abbastanza secca è no. Il nucleare non è una fonte energetica rinnovabile. Le tecnologie nucleari correntemente utilizzate eh sono basate sulla escavazione in miniera di uranio e ehm se le stime attualmente circolanti nel settore dicono che a questi ritmi di utilizzo quindi con le centrali attuali eh l'uranio che c'è sul pianeta Terra potrebbe durare tra i cinquanta e i cento anni. Dopodiché è finito. Quindi o cambia la tecnologia miracolosamente oppure eh la la questione del del nucleare se è rinnovabile direi senz'altro che no. Eh c'è poi un'altra questione che il nucleare sostanzialmente ha dei problemi di tempi di realizzazione. Noi come avrete notato dalla sequenza terribile di varie catastrofi e situazioni anche tra l'altro in pieno svolgimento cioè ondate di calore precedute dall'alluvione della Romagna e poi seguite le ondate di calore da violentissimi fenomeni atmosferici grandinate distruttive e così via noi abbiamo una fretta indiavolata di affrontare questa questione della crisi climatica e le fonti energetiche che si possono installare più rapidamente le abbiamo già nominate. Sono le fonti eh rinnovabili. Allora eh invece per quanto riguarda il nucleare i tempi di installazione vanno come minimo ma anche questa è una stima molto ottimistica come minimo ci vuole una decina d'anni per fare una centrale. Hanno da pochissimo inaugurato i finlandesi una nuova centrale nucleare a Oltiluoto dove ne avevano già altre due e dal momento in cui hanno cominciato a pensarci al momento in cui l'hanno veramente allacciata alla rete di anni ne sono passati ventitré. Eh quindi bisogna tener conto anche di tutta la 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 procedura autorizzativa e poi tutti i problemi che si incontrano inevitabilmente nel corso della costruzione. Ehm per chiarire eh noi abbiamo degli obblighi europei adesso di installazione di conti rinnovabili e quindi il governo ha già cominciato a preparare un piano nazionale eh in questo senso che ha una brutta sigla che si chiama il PNIEC, piano nazionale eh eh per eh l'energia e il clima eh prevede comunque che nell'arco di dieci anni eh o anche meno l'Italia installi fonti rinnovabili per l'equivalente di almeno dieci centrali nucleari. Quindi quello che c'è da fare non è pensare a un'ipotetica centrale nucleare che chissà dove e quando verrà realizzata. Quello che c'è da fare è mettersi a correre per raggiungere questi obiettivi e creare energia elettrica in grande quantità tutta da fonti rinnovabili. La chiave è questa. Grazie, grazie mille professor Marletto. L'intervista di Pillole di Clima è giunta alla fine. Speriamo che vi sia piaciuta e l'abbiate trovata interessante. Ringraziamo ancora il professor Marletto per aver risposto alle domande e auguriamo a tutti e a tutte una buona giornata.